Pensando sui fatti, invece, noi abbiamo stanziato 4 milioni di euro dopo due giorni, lo poteva fare anche il governo, visto che nessuno ha fatto le domande scritte. Hanno deciso che vogliono la pratica e gli abbiamo mandato la pratica. Ovviamente noi restiamo dall'idea che la pratica generale, quella della ventina di catastrofe in Veneto, sarebbe stata la miglior soluzione per avere più massa critica.